Primo giorno di scuola, com'è andata? Beh, è andata bene, un po' strano. Provare tutti con la mascherina, tutti i geniziati, c'è un po' strano. Però, per fortuna, dopo mesi, sono scoperto a rivedere tutti i compagni e tutti i prof. E con le misure anti-Covid, com'è andata? Beh, ci dobbiamo fare ancora l'abitudine, perché ancora, come ripeto, è ancora strano, però ci dobbiamo abituare. Ma come funzionate? Ci sono stati ingressi scaglionati? Sì, ci sono tre entrate, ognuno ha la sua entrata, ogni presto ha la sua entrata, però i distanziamenti ci sono. Ci sono? Sì, fa. È abbastanza strano, come primo giorno, appunto perché non siamo abituati a diverse regole, distanziamento, mascherina, capire diverse entrate dove andare in diverse aule, un po' particolare. E con i professori, com'è andata? Beh, sì, è andata bene, solito, l'unica roba che cambia è la distanza, è la mascherina. E hanno misurato la temperatura al resto? Sì. È andata abbastanza bene, mi aspettavo peggio, stamattina ci hanno misurato la temperatura appena siamo arrivati, ci sono diversi ingressi, però non è andata male. E con le ore di lezione come funziona? Allora, praticamente ci sono i banchi distanziati, dobbiamo tenere la mascherina in ogni caso, anche se c'è un metro di distanza, è normale, l'unica cosa che cambia è la mascherina. Ah, dai, tutto sommato bene, diciamo, l'unico problema c'è stato oggi di caldo, magari l'entrata, che nell'aspettare la temperatura siamo entrati un po' in ritardo un po' tutti, però per il resto in classe si è distanziati. E all'ingresso com'è? C'è tanta cosa, immagino? Abbiamo diverse entrate, però nonostante questo sia, c'è abbastanza, c'è un po' di attesa, perché magari non va, cioè, di lì, non si chiama, non si chiama, non si chiama, lo si chiama. Magari non prende la temperatura di aspettare, uno per uno ci mettiamo un po', però adesso migliorerà anche.